dal 21 marzo del 2024 possiamo trovare su prime video roadhouse che è un remake del film del 1989 il duro del roadhouse con il compianto patrick suase protagonista l'originale non l'avevo mai visto ma ho deciso di dare un'occasione a questo rifacimento anche perché mi è comparso sulla home di prime con jay gillen o il protagonista sembrava un classico film d'azione che avrebbe potuto intrattenermi e quindi ho cliccato play me lo sono guardato e adesso ve ne parlo senz'altro il film non sarà un capolavoro ma è quel generico film d'azione che nella sua semplicità riesce a intrattenere dietro la macchina da presa troviamo da gleeman e un po ero spaventato perché il suo ultimo lavoro prima di questo era stato caos walking un film pessimo di cui avevo parlato sul canale quindi nel caso trovereste pure la recensione qua si fa un bel passo avanti la storia è semplicissima praticamente c'è questo locale questa roadhouse in florida che tutte le sere viene frequentata da questi tipi loschi dalla malavita e quindi risse su risse non c'è più possibilità di stare tranquilli di stare sereni chi ci lavora non ne può più e quindi viene chiamato questo dalton che è un ex lottatore di mma e lo chiamano come butta fuori ovviamente mena le mani ogni due per tre e la trama è questa lui che ogni persona che entra con fini poco leciti la prenderà a schiaffi e quindi la manderà all'ospedale un giorno sì e l'altro pure poi conoscerà una ragazza e potrebbe anche nascere una storiellina d'amore lei è interpretata da daniela melchor che avevamo anche visto in fast x che interpreta ellie e poi ci sarà tutta una storia legata alla malavita perché qualcuno è interessato a buttar giù questo locale per costruirci un resort e quindi troveranno l'opposizione di tutti i protagonisti che ci lavorano dentro questa roadhouse ma anche di dalton che ogni due per tre lo ritroveremo protagonista di scene d'azione anche ben girate sicuramente non vi aspettate le coreografie di john wick non c'è shud staelski ma al contempo alcune sequenze mi sono rimaste in mente per dire ce n'è una dove addirittura in alto in alto mare siamo nell'oceano c'è praticamente questo gommone che a tutta velocità prende pieno un tizio che stava combattendo dentro l'acqua oppure ci sono dei combattimenti con la soggettiva di chi prende le botte ci sono altri momenti dove jay gillen all si ritroverà a combattere contro conor mcgregor il lottatore che qua diventa attore tra l'altro carismatico tra l'altro molto bravo tra l'altro il suo ruolo è assolutamente iconico sin dalla prima scena in cui compare dove è nudo vi dico solo questo e quindi immaginatevi conor mcgregor mcgregor jay gillen all due fisici pazzeschi bellissimi ovvio che nella verità basterebbe una manata di conor mcgregor a jay gillen all e l'attore finirebbe attrezzo sull'adda dalla florida però questo è un film qua dalton darà del filo da torcere a questo cattivone interpretato da mcgregor che viene chiamato proprio perché nessuno riesce a fronteggiare dalton questo è roadhouse quindi se avete voglia di vedervi un film spassoso se avete voglia di vedervi un film che non vuole veicolare niente che non vuole insegnarvi niente se non regalarvi due ore di sano intrattenimento e anche un po di esagerazione perché ad un certo punto dovete capire che non si sta più guardando un film dove persone in carne ed ossa combattono ma dove dei robot si ritrovano a darsi degli schiaffi e degli sganassoni perché è un po la metodologia la fast and furious si creda qualsiasi cosa e questa la bellezza del cinema quindi un film d'azione che ho visto volentieri non ho visto l'originale lo recupererò ma sono convinto che questo sia molto più esagerato poi potrei sbagliarmi però questo l'ho visto proprio indirizzato verso un tipo di action alla fast and furious maniera e secondo me invece era più quadrato verso un tipo di azione anni 80 il duro del roadhouse magari chi l'ha visto potrebbe farmelo sapere qua sotto nella sezione commenti è scritto oltre che diretto da doug liman da anthony bagarosi e da charles mondry l'avete visto è su prime non annoia è il classico film da vedere mentre che ne so viscolate una birra con dei popcorn mi dispiace non averlo potuto vedere al cinema perché un film di questo tipo in sala mi avrebbe fatto divertire senz'altro di più a me piace questo tipo di cinema sopra le righe questo tipo di cinema esagerato ecco roadhouse riesce a fare quello che the beekeeper con jason statem si sforza di portare avanti dall'inizio ma senza riuscirci quindi qua ho trovato quell'esagerazione che mi piace ho trovato delle scene che sanno essere coinvolgenti così come le coreografie d'azione non sarà folle come un fast and furious degli ultimi anni non sarà a livello di coreografia action perfetto come un john wick ma pensare a jay gillenall con quel suo fisicaccio che con quel suo sguardo sempre pronto a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno prende a botte chiunque addirittura ad un certo punto una macchina a tutta velocità sfreccia sul ponte lo prende cade dal ponte la macchina gli va addosso lui non si fa niente c'è un coccodrillo che poteva essere usato meglio per me il coccodrillo nell'oceano poteva essere usato meglio ma c'è un'altra bellissima scena nell'oceano dove ad un certo punto i protagonisti due ellie e dalton si ritrovano c'è questo scoglio piatto a pelo d'acqua vanno lì due sdraio un ombrellone due birre e poi il finale continuatelo voi tanto lì chi vi vede nessuno quindi questo è il mio parere su un film simpatico su un film che non vi farà strappare i capelli ma che al contempo se apprezzate questo tipo di cinema potrebbe fare al caso vostro è un film fracassone è uno di quei film quei popcorn movie che io quando capita vedo volentieri vediamo come andrà su su prime perché effettivamente se le visualizzazioni fossero tante non sarebbe assurdo la messa in cantiere di un ipotetico sequel anche perché c'è una scena a metà dei titoli di coda che vi fa capire le sorti di un dato personaggio che quindi potremmo rivedere ancora poi se cercate più introspezione se cercate che ne so una storia che vi faccia star lì incollati alla poltrona e che non vi faccia mai capire quel che sta succedendo con i colpi di scena uno dietro l'altro roadhouse non è il film che farebbe al caso vostro questo è il classico lungometraggio dove ci si picchia dove ci si diverte dove tu metti i piedi nel mio locale lo distruggi io distruggo te con delle scene simpatiche con delle scene anche se vogliamo assurde ma nella sua assurdità nella loro assurdità divertenti non ho altro da dire anzi mi sto già ripetendo a livello fotografico comunque è un film dignitosamente girato cioè da gleeman se io penso a caos walking veramente questo è quarto potere rispetto a caos walking e vi assicuro che roadhouse è un film carino è non è niente di eclatante però rispetto a un caos walking poi nel corso della sua filmografia se la scorriamo ha fatto anche altri film dignitosi però caos walking penso sia veramente il punto di non ritorno quindi meno male con roadhouse ha fatto un qualcosina in più ribadisco ancora una volta che un film di questo tipo in sala sarebbe potuto andare bene non so perché abbiano scelto di lasciarlo su netflix forse scusate su prime forse perché la piattaforma streaming ha dato più soldi a livello di budget non saprei fatto sta che io l'ho visto ve ne ho parlato c'è un nutrito cast di attori ma chi risalta su tutti è jake illeno jake illeno e assieme a lui conor mcgregor non l'avrei mai detto ma conor mcgregor dal lottatore qua si è prestato molto bene nel ruolo e c'è un combattimento finale assolutamente niente male anche se ribadisco certe cose potevano essere sfruttate meglio ci poteva essere un po più di di esagerazioni in dei momenti che non avrebbe affatto guastato tanto si capisce che il film vuol partire con delle scazzottate soft ma poi si arriva veramente a barche che vanno a finire sulla riva e persone che volano coccodrilli che uccidono coccodrillo da usare meglio e poi che ne so gommoni che ti stempiano la testa e si e si sale sul gommone in corsa mentre hai il motore con le eliche che ti girano vicino proprio qua al viso però è questo questo è il cinema è una classica americanata ma che a me fa stare bene che a me piace quindi non ho nient'altro da dire roadhouse che non è il posto dove magari andrete a mangiare stasera ma è sicuramente quel fast food che potreste non lo so che potreste frequentare prima di vedere il film che ne so dite prendo vado a mangiare un hamburger a roadhouse e poi mi vengo a vedere roadhouse vi portate dietro la birra e questo è il film perfetto per gustarvi nel frattempo un hamburger una birra e poi se fate anche una piugiatina non ci sarebbe nulla di male ovviamente dicendo alle vostre ragazze pensate a me e non a jay gillenor perché sai dopo aver visto jay gillenor completamente quasi sempre mezzo nudo con gli addominali in vista io potrei capire che le vostre ragazze insomma vostri ragazzi chi vi pare guardando lui e quindi niente non c'entrava niente ma l'ho voluto dire un saluto con la tromba e con l'imbuto vi ricordo che nelle info troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale se deciderete di abbonarvi riceverete in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana è anche attiva la funzione super grazie che vi permetterà di mettere in evidenza il vostro commento oltre che sostenere il mio operato sul tubo non faccio una parte spoiler perché veramente non ci sarebbe da dire alcunché rispetto a quello che ho già detto cosa vi aspettate che alla fine dalton resti sconfitto vi aspettate questo beh ciao